Mh, ma è proprio quali da oro, ma come ha fatto? Mh, ma lì non c'è scritto niente E gliel'ho detto, è un segreto E se io decimannassi? Dove? È un segreto Tieni Qualità oro, mi sai l'originale, Luigi Lavazza È proprio qualità oro, ma come ha fatto? Ricetta segreta di Luigi Lavazza Ma lì non c'è scritto niente E gliel'ho detto, è un segreto E se io decimannassi? Dove? È un segreto Tieni Qualità oro, mi sai l'originale, Luigi Lavazza È proprio qualità oro, ma come ha fatto? Ricetta segreta di Luigi Lavazza Ma lì non c'è scritto niente E gliel'ho detto, è un segreto 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti